Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In Filippili in direzione Firenze 2 km di coda per lavori tra Empoli ed Empoli Est e 4 km di coda per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. In direzione Mare 4 km di coda per incidente al km 9300 tra Scandici e Ginestra Fiorentina. In A1 verso Bologna rallentamenti sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandici e in galleria tra Calenzano e Aglio. In A15 rallentamenti per lavori tra Pontremoli ed Aulla in direzione La Spezia. Su raccordo Siena-Firenze rallentamenti per lavori tra Colle di Valdelsa Nord e Monteriggioni in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!